A stalla vista ragazzi, io sono Cyborgamer dal futuro e oggi ci troviamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Xenoverse 2, sempre sulla serie. Rieccoci qua ragazzi con il nostro carissimo pattugliatore temporale assieme alla nostra carissima mascotte, sua maestà Zenuccio. E oggi ragazzi andremo a fare una cosa che non facevamo da parecchio tempo e che devo dire mi manca a fare. Andremo appunto ad esaudire un nuovo desiderio al nostro carissimo Drago Sharon. Penso che chiederò di avere le medaglie pattugliatore temporale, un desiderio raga che vi sembrerà strano ma non abbiamo mai esaudito dal Drago Sharon. Quindi sarà la prima volta che lo faremo assieme in questo video perché raga non ne ho avuto il tempo insomma, non mi sono mai posto il problema di andarlo a fare subito quindi lo facciamo adesso con calma. E voglio andare ad esaudire questo desiderio con voi oggi perché ragazzi le medaglie pattugliatore innanzitutto servono sempre. Ma visto che sta arrivando il 18 marzo appunto il Legendary Pack 1 che sarà una cosa davvero dirompente, una cosa potentissima. E quindi sicuramente ci saranno tanti contenuti da acquistare immagino con le medaglie pattugliatore temporale perché non prepararci prima anche in questa maniera. Io raga di solito mi faccio le missioni esperto 16 e 17, me le faccio a raffica e ne faccio tantissime di medaglie. Però se abbiamo quest'altro metodo appunto che sicuramente voi già conoscete da parecchio tempo che ci può dare altrettante medaglie pattugliatore anche più velocemente perché no ragazzi? Perché non usare questo metodo al nostro stesso vantaggio se è più veloce? Perché ragazzi come vi ho già detto io non so quante medaglie si sbloccano appunto facendo questo desiderio quindi il tutto sarà nuovissimo per me, lo scopriremo assieme. Voi lo sapete già sicuramente ma io no, quindi raga insomma una volta visto quante medaglie si sbloccano se è più veloce questo metodo userò questo qua per fabbricarne di più raga, raffica davvero anziché fare le missioni esperto 16 e 17. Comunque prima di cominciare vi voglio un attimino ricordare di andarvi a recuperare se non l'avete visto lo scorso episodio in cui siamo andati a testare gli abiti di Hub del finale di Zeta in battaglia usando anche la trasformazione dorata del mio pattugliatore. Quindi ragazzi se per caso non avete visto lo scorso episodio mi raccomando ad andarlo a guardare o siete terminati! Detto questo adesso ragazzi è arrivato il fatidico momento di andare ad evocare il drago Sherron. Raga è sempre un'emozione appunto evocare il drago ed esaudire un nuovo desiderio, non lo facciamo da tanto quindi sarà emozionante come le altre volte se non di più. Comunque prima di andare voglio farvi notare che al momento abbiamo 3000 medaglie pattugliatore temporale che appunto ho farmato facendo le missioni esperto 16 e 17 che sono molto semplici e appunto ne sblocchiamo 16 ogni volta raga lo sappiamo già lo sapete voi lo so io le conosco molto bene perché le faccio a raffica. E adesso vedremo un po' ragazzi quante ne sbloccheremo andando a fare questo desiderio. Quindi andiamo subitissimo il nostro caro Zenuccio raga sembra bello contento e arzillo quindi le sfere del drago ovviamente le ho già raga le ho già collezionate facciamo esamina. Hai sette sfere del drago vuoi evocare Sherron? Ma certo! Ok ragazzi madonna! Oh ragazzi eccoci qua il piedistallo si illumina di tanta tanta luce ed ecco il drago raga mamma mia questa luce giallastra bellissima mamma mia ed ecco raga bellissimo il drago sia qui che su Dragon Ball Z Kakarot ovviamente. Ok raga sentiamo? Hai un altro desiderio da esprimere di che cosa si tratta questa volta raga sta già di cattivo umore il drago oggi mamma mia. Allora qui abbiamo raga voglio dei soldi quindi saranno gli zeni questi qua voglio diventare più forte voglio un nuovo attacco speciale voglio una seconda possibilità voglio ottenere una bellezza mozzafiato voglio delle medaglie quello che ci interessa voglio un altro attacco supremo voglio un altro attacco speciale voglio riempirmi la pancia questo è per il cibo ovviamente. Ragazzi noi appunto andiamo alle medaglie perché vi ho detto ci interessano quelle Sharon dice qualche problema sbrigati a esprimere il tuo desiderio raga tanta fatica per prendere le sfere venire qua e cercare di esaudire il desiderio e il drago ci dà fretta ma perché se ne vuole andare subito oh mio dio. Sharon dice Dio mi ha creato non posso esaudire desideri che vadano oltre quelli che sono i suoi poteri questo lo sappiamo già ragazzi se no saremmo andati dal super drago Sharon quello di Dragon Ball Super. Allora quando mi dirà il tuo desiderio Sharon adesso io esprimo tutti i desideri che voglio per farti incazzare perché stai dando fastidio comunque voglio delle medaglie vai devo completare la richiesta ma no puoi anche non farlo cioè voglio dire che sono venuto a fare qua vai un desiderio facile da esaudire perfetto mi fa piacere. Oh ragazzi addirittura hai ricevuto medaglie pattugliatore temporale per 200 quindi 200 medaglie non mi aspettavo così tante raga mi aspettavo tipo 50 o 100 cioè ragazzi 200 sono tante perché comunque devo fare tipo la missione esperto 16 per tante tante volte per sbloccare 200 medaglie cioè ce ne vuole raga di tempo e pazienza anche e io ne ho pazienza come vi ho già detto. Comunque raga è buonissimo quindi facciamo ok grazie mille drago il tuo desiderio è stato esaudito ma guarda non me ne ero accorto che mi hai dato 200 medaglie. Raga adesso controlliamo ovviamente magari il drago ci ha trollati ci ha detto che ce le ha date invece no quindi controlliamo. Oh ragazzi ed eccoci qua il drago è sparito ovviamente le sfere non le abbiamo più le dobbiamo ricollezionare ovviamente poi raga in futuro andremo a prendere di nuovo le sfere lo farò io ovviamente mentre non registro e andremo a disaudire un altro desiderio diverso da quello di oggi ovviamente. Comunque raga controlliamo subitissimo magari il drago ci ha fregati quindi vediamo un po' 3200 raga prima erano 3000 ve l'ho già detto quindi ne abbiamo 200 in più ragazzi per me non è affatto male 200 medaglie fanno molto comodo riceverle in questa maniera perché credo si perda meno tempo a collezionare appena le 7 sfere del drago e poi appunto andare dal drago ed esaudire il desiderio. Mentre quando io faccio le missioni esperto per ricevere le solite 16 medaglie pattugliatore temporale ci metto praticamente 13 missioni esperto cioè la devo fare 13 volte per averne 208 più o meno quindi raga insomma diciamo che forse dovrei valutare di fare più volte qui il desiderio al drago e mi spiccio prima perché fai il desiderio 5 volte sono 1000 medaglie pattugliatore temporale quindi raga fantastico cioè credo che sia meglio questo qua. Ovviamente raga adesso che abbiamo fatto per la prima volta questo desiderio assieme ovviamente mentre non registrerò potrò usarlo tranquillamente però volevo lasciare appunto la prima volta qui per il canale raga per il video perché sennò sarebbe stato brutto se l'avessi già fatto e appunto poi l'avessi portato successivamente come video sarebbe stato brutto. Invece no ragazzi vi assicuro che la prima volta infatti sono rimasto molto stupito delle 200 medaglie. Ovviamente ragazzi voi questo metodo lo conoscete già lo usate già da tanto tempo solo che non aveva avuto il tempo e neanche la voglia più di tanto di andare ad esaudire questo desiderio anche perché mi mettevo a farmarle lì velocemente con le missioni esperto e basta così quindi non ci avevo mai pensato. Adesso lo abbiamo fatto sono molto contento abbiamo rivisto il drago dopo tanto tempo e poi ragazzi successivamente andremo appunto ad esaudire qualche altro appunto desiderio diverso da questo qua per un attacco speciale un attacco supremo del cibo qualcosa del genere. Ovviamente ragazzi questo piccolo video oggi finisce qua fatemi sapere un po' la vostra su questo episodio molto corto fatemi sapere se vi è piaciuto questo desiderio al drago Sharon anche se lo conoscevate già io raga cerco anche di intrattenere con questi piccoli video non è che solamente fa il desiderio e basta lo potevo fare anche appunto per cavoli miei e invece no ragazzi invece no perché posso sempre farvi divertire anche con questi piccoli video ne sono sicuro. Quindi mi raccomando a farmi sapere la vostra su questo desiderio se l'avete già espresso molte volte poche volte se appunto secondo voi si fa velocemente a farmare le medaglie pattugliatore in questa maniera quindi fatemi sapere la vostra. Quindi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia anche un po' divertito se volete ragazzi lasciate un like condividete iscrivetevi se non siete iscritti e ricordatevi sempre che io tornerò. Grazie a tutti!